Serata speciale, quella dello scorso 25 maggio per gli studenti dell'Università di Camerino. Il Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo ha infatti organizzato la sesta edizione del Talent Show riservato agli studenti universitari in veste rinnovate con un nuovo nome, TU, acronimo di Talent Unicam. Novità di quest'anno, l'evento si è tenuto in contemporanea sia nella sede di Camerino che nella sede di Ascoli Piceno. Sul palco in Piazza Cavour a Camerino sono stati 12 concorrenti ad esibirsi sia come solisti che in gruppo con brillanti performance di canto, danza e recitazione. Vincitori della serata, grazie ai voti della giuria sommati a quelli del pubblico, il gruppo dei ragazzi africani che si sono esibiti in un coro gospel a Camerino e Sabrina e Danilo Boffa che si sono esibiti in una performance canora nella sede di Ascoli. Ad Ascoli è stato assegnato anche il premio della critica alla stilista Arianna Ciarapica che ha mostrato le sue creazioni. Presente in platea a Camerino anche il rettore Unicam, Flavio Corradini, soddisfatto per il successo della manifestazione. I fondi ricavati durante la serata saranno destinati a finanziare i progetti delle associazioni Save the Children e Vento di Terra.